eccoci qua ragazzi oggi un video un po diverso perché andiamo a pulire e fare manutenzione su un sentiero che non si usa spesso uno di quelli un po più incazzati della della zona il sentiero è lady marian avevamo fatto un paio d'anni fa però poi è stato un po abbandonato e adesso andiamo a vedere in che condizioni si trova questo è il doppietto fatta adesso andiamo fino a lì e leviamo i rami tanto che sarà segnato e per farlo un po meglio così domenica ci andiamo a fare un giro ci mettiamo le ruote e vediamo un po come volevo dirvi una cosa se potete iscrivervi al canale perché c'è la metà di quelli che guardano i video che non sono iscritti e quindi se riuscite iscrivervi non costa niente basta cliccare su iscriviti è gratis quindi secondo me è un supporto che date anche al canale quello che cerchiamo di fare ovviamente siamo all'inizio però piano piano riusciamo anche a portarsi gente e niente andiamo a vedere un po questo sentiero che è sempre nella zona di sherwood abbiamo preso la zona un po più pendente adesso ce lo faremo un po al contrario a piedi pulendo quello che c'è da pulire e cercando di capire se necessita delle modifiche per renderlo un po più fruibile a tutti quanti anche se dovrebbe secondo me rimanere un sentiero un po più tecnico un po più difficile vediamo un po gli altri cosa ne dicono ok beh chiamo che viene bene eh c'è la pasta la cera e abbiamo fatto primo pezzo questo che è t1 test test rider no andiamo piano robertino ed eccoci qua a vedere Lady Marianne c'è un pezzettino dolce qua inizia un po di ripidino qua si fa tranquillo let's go senza pensarci no no io non ci penso però ti ho capito dove è battuto sulla sponda parti da lì e non ti fermi è giusto no? l'avevo indesplosato questa è una delle piste un po più enduro di che c'è grande occhio non mi fermavo te stavi tu non mi fermavo hai fatto male? no non devi fare come accadda tu apposta vai piano grazie bravo via perfetto grande papis lo vedi? è una questione di testa è una questione di testa lì c'è un pelo di contro pendenza ma si sta calmo è un po' è un po' è un po' Grazie a tutti Vabbè dopo le sgonfiamo Pista abbastanza tecnica ma è veramente una figata Uno spettacolo E' veramente uno spettacolo ragazzi Aspetta fammi vedere il papis Adesso c'è il pezzo più brutto Alla prossima Papis Sta qui sotto Sta a posto papis Vabbè dai Andiamo Alla prossima Alberello Fuuu! Escrivono!